Ciao e benvenuti nella Google Junior Training Series. Io sono Matteo Castioni, educator di G&G Italia, e con questo tutorial voglio mostrarti come impostare un promemoria con Google Keep. Step 1. Accedi a Keep utilizzando il menu delle app in alto a destra. Una volta entrato su Keep, cerca la nota per la quale vuoi impostare il promemoria. Step 2. Clicca sull'icona a forma di campanella presente in basso a sinistra sulla tua nota. Step 3. Scegli se far partire un promemoria più tardi oggi, domani, la settimana prossima, oppure puoi scegliere la data e l'ora. Dopo aver selezionato la data ed un'ora, clicca su Salva. Ora sai come impostare un promemoria con Google Keep. E mi raccomando, guarda gli altri video della Google Junior Training Series. Ciao!